Ciao amici del MyLab! Qual è il pasto più importante della giornata? Oggi parliamo di questo, ma prima, come sempre, ti chiedo di condividere questo video con tutti i tuoi amici. Iscriviti al nostro canale, alle nostre newsletter, così verrai tenuto informato di tutto quello che facciamo, tutte le nostre iniziative, le interviste ai dottori, ai biologi, ai nutrizionisti, agli sportivi. Vedrai, sarà molto interessante. Mi raccomando, attiva le notifiche così viene avvisato ogni volta che c'è una novità. La classica frase che si sente dire in giro è che la colazione è il pasto più importante della giornata. E se non fosse vero questo dato? Sono sicuro che questo dato l'hai sentito dire un miliardo di volte e sono sicuro anche che ti sei sentito piuttosto confuso o confusa quando era il momento di scegliere cosa mangiare al mattino. magari te sei una di quelle persone che al mattino starebbe bene a non mangiare assolutamente niente e non è una strategia sbagliata. Adesso sta diventando anche di moda perché gli hanno dato un nome, ma prima magari hai fatto degli errori e ti sei rimpinzata o rimpinzato di cibi che a te non facevano bene in quel momento perché la colazione è il pasto più importante della giornata. Quando ci sono in giro, dati scorretti, siamo tutti vittime di ipnosi. Il fatto che ci sia qualcosa che viene detto da tutti perché tutti sanno che, questa frase dovrebbe preoccuparci, tutti sanno che il pasto più importante della giornata è la colazione ed eccoti là a scegliere tra mangiare questo, mangiare quello, ma devo metterci il caffè, ma il caffè fa male, no il caffè fa bene, ma io dovrei metterci più grassi, i carboidrati complessi, gli zuccheri semplici, gli zuccheri fanno male, allora mettiamoci, uh, confusione. Non voglio fare un discorso taglia unica perché ti dico già che per me, per esempio, la colazione ideale in condizioni normali è di non fare la colazione, perché questo vale per me. Al mattino il mio cortisolo, l'ormone dello stress è alto, come è giusto che sia, come dovrebbe essere in gran parte delle persone, e questo fa sì che il mio corpo sia più portato per attivarsi, darsi da fare, muoversi, piuttosto che digerire, assimilare le proteine e così via. Ecco che invece, spinto da questo dato falso che la colazione è assolutamente importante, mi costringevo a rimpinzarmi di cibi che poi mi facevano sentire pesante durante tutta la prima metà della mattina, e non si lavora bene con lo stomaco pieno quando si è nella mia condizione. Ovviamente questo è un discorso che non va fatto a taglia unica. Per me va bene il digiuno intermittente, ok, quindi non mangio fino a luna e poi mangio massimo fino alle 7 di sera e questo mi fa trovare in perfetta forma, non prendo peso e ho energia per fare sport. Certo che questo è un discorso che vale per me, che ho 53 anni, ma di sicuro a mia figlia che ha 6 anni non cercherei di far fare il digiuno intermittente, perché è una bambina di peso normale, con l'argento vivo addosso, e sarebbe meglio che mangiasse qualcosa la mattina. Non dico tanto, però per lei la colazione è abbastanza importante, altrimenti deve aspettare fino alle 11 di fare merendina. Probabilmente poi la merendina a scuola gliela danno e non è altro che un sacco di zucchero, ma sono brave, le maestre nostre gli danno della frutta, gli danno altre cose, quindi sono fortunato. Però magari tuo figlio quando va a scuola riceve solo pane e marmellata e lì non è che abbiamo rimediato al problema della colazione, giusto? Ci sono tanti altri fattori da tenere in considerazione. Che lavoro fai? Non è che fai un lavoro pesante, non è che consumi un sacco di calorie, oppure devi essere, come dire, molto presente fisicamente e mentalmente e allora non andrei a pompare troppo questo digiuno intermittente, magari per te questo non è ideale. Sei uno sportivo e quindi fai tanto sport? Può darsi che per te vada bene mangiare più volte al giorno, questo sì, questo per una persona sedentaria non va bene, ma per uno sportivo forse sì. Tra parentesi con gli sportivi ho fatto un sacco di esperimenti perché li abbiamo seguiti con il nostro programma specificamente per i runner, gente che fa le ultra maratone cioè gare da 100-200 chilometri a piedi. Ho avuto la fortuna e il privilegio di seguirli e di aiutarli assieme ai miei dottori e i miei nutrizionisti e l'esperienza è stata straordinaria. In certe fasi di allenamento di questi super sportivi abbiamo visto che era bene che loro andassero ad allenarsi, quindi a fare degli allenamenti magari di 20-30 chilometri di corsa a piedi, senza prima mangiare o mangiando pochissimo. Perché? Perché così costringevano il loro corpo ad andare a grassi. Non avendo mangiato carboidrati o cibo nuovo, il corpo era costretto ad usare i grassi, presi dal corpo o presi dall'alimentazione, ma questo abitua il corpo a funzionare a grasso. Stiamo parlando di sportivi, non è che ti sto consigliando di fare cose di questo genere perché va personalizzata, ma pensa te, addirittura sportivi di questo genere si trovavano bene a far funzionare il loro motore a grassi. Ecco che così, siccome il motore a carboidrati va sempre ed è molto facile da innescare, mentre quello a grassi è difficile da abituare e da far funzionare, quando sono poi in gara questi mangiano i carboidrati, mangiano il cibo che ci deve e hanno tutti e due i motori che funzionano perché quello a grassi finalmente si è abituato e quello a carboidrati viene fornito di tutto quello che gli serve, cioè mangiano i carboidrati. Ovviamente quando questi sportivoni andavano a fare gli allenamenti senza mangiare prima, correvano piano, gli andava male, non avevano tanta energia perché il motore a grassi era lento ad accendersi e il motore a carboidrati non aveva il carburante. Non so se mi spiego, ogni cosa, per dirla in soldoni, deve essere proporzionata a quello che fai tu. Quindi probabilmente anche tu hai subito un sacco di confusione a causa di dati alimentari confusi, cose poco importanti che vengono dette essere la panacea di tutti i mali, cose importanti che vengono sottovalutate o dati palesemente sbagliati. Un dato palesemente sbagliato sta sicura che è il fatto che c'è una dieta che va bene per tutti. A volte ci sono delle diete uguali per tutti che almeno tolgono gli errori principali della dieta mediterranea cosiddetta, cioè la dieta dell'italiano medio, che non è la vera mediterranea. Ecco, quando dico questo mi riferisco praticamente sempre al mangiare troppi zuccheri. Che noia, dico sempre quello. Nel MyLab siamo dei fissati, non so cosa ci abbia fatto lo zucchero. Ci ha fatto un sacco di cose questo zucchero, ci ha fatto ammalare, ci ha fatto ridurre la nostra energia, salute, ci ha fatto ingrassare a casaccio. Quindi ce l'abbiamo con lo zucchero, ma c'è un buon motivo. Ci sono anche aspetti positivi della colazione. Guarda questo post che ho trovato ieri su Instagram. La colazione è il pasto più importante della giornata, ti dà energia, vitalità, concentrazione e se fotografata bene almeno 100 likes su Instagram. Scherzi a parte, ognuno di noi ha bisogno di una dieta personalizzata, un regime di abitudini e dieta e integrazione personalizzati. Perché? Perché a occhio non si riesce a vedere come va il tuo metabolismo. Ci vogliono dei dati analitici, ci vogliono dei test, delle analisi, dei numeri, qualcosa che ci dia un'indicazione probabile di qual è il cibo che fa bene per te. Ci sono delle regole generali, quella di non eccedere con lo zucchero è la più facile e la più violata in generale in Italia e nel mondo, però ci sono molti altri dettagli e guardate che quando hai una dieta corretta la salute migliora tantissimo. Il corpo nostro, se non gli diamo troppo fastidio, è bravissimo ad autoripararsi e lo fa milioni di volte al giorno, in miliardi di cellule, in trilioni di danni da ossidazione. Siamo bravissimi a ripararci ogni giorno, purché non gli diamo troppo fastidio e gli diamo i nutrienti di cui ha veramente bisogno. Perché senza materia prima questi operai che ci riparano non sanno come portare a termine il loro lavoro. Spero che questo video ti sia piaciuto e come sempre ti invito a prenotare una consulenza gratuita per avere più informazioni di cosa puoi far tu per sapere esattamente la tua alimentazione corretta, sapere come fare a risolvere i tuoi disturbi, per esempio disturbi gastrointestinali che purtroppo vanno molto di moda, nel senso che sono molto diffusi. Queste cose si possono rimediare, spesso la soluzione è davanti al nostro naso, ma se non abbiamo dati oggettivi è veramente difficile sapere quale sia. Ciao e al prossimo video! Ciao e al prossimo video!